Bella a tutti raga, io sono Pietro, sono l'incluso in bagno, non fateci caso. Ho fatto uno short che spero che vi date, perché vi do, là vi dico una cosa, che vi farò vedere un altro short. Sì, quella cosa che ho detto, vi dicono un altro short, ve lo dico adesso. Questo short non è neanche divertente, è super serio, se no mi vedete nella mia stessa casa, perché mi sto per trasferire. Spero che vi divertiate e che spero che mi seguite, perché se no hai 100.000 like qua, hai 100.000 iscritti qua, non ci arriviamo!